Gianluca Di Marzio ha rilanciato una notizia particolarmente interessante sul mercato della Juventus e soprattutto intrigante perché si potrebbe creare uno scenario abbastanza clamoroso negli ultimi giorni di mercato che può portare un esterno che a mio avviso è in grado sarebbe in grado di spaccare in due sono letteralmente quello che è il campionato italiano ma scopriamo tutto dettaglio oggi qui sul facciamo in sport come sempre ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenere per giornate in maniera costante in maniera gratuita soprattutto gratuita si lo dico spesso ma è perché è un concetto a cui tengo particolarmente perché in un mondo dell'intrattenimento in cui ormai costantemente vi si chiede l'abbonamento mensile settimanale annuale che va sempre crescendo quindi con contenuti magari in questa piattaforma possono essere riservati a qualcuno che paga riservati a qualcuno che paga ancora di più qua è tutto gratuito non vi costa nulla se volete e se vi va potete scrivere se i contenuti non sono di vostro gradimento se le nostre analisi non vi piacciono potete semplicemente non vederli ma comunque avete tutti la possibilità di vedere tutto in maniera gratuita che serviva fatto se no amici come prima andiamo alla notizia perché perché in casa juve c'è una situazione molto particolare quella legata a chiesa ma che si può diciamo incastrare con un'altra operazione che ha a che fare con un calciatore di cui ha parlato proprio gianluca di marzio ossia sterling e sì perché qualche giorno fa abbiamo parlato di un interesse della juventus per sterling vi abbiamo parlato di una possibile un possibile inserimento di chiesa in questa situazione qui e attenzione perché di marzio ha rilasciato notizia che per come la vedo io sarebbe clamorosamente interessante per la juventus e sarebbe molto intrigante perché sterling non è stato convocato per la sfida tra il celsi e il manchester city e questa è già una notizia la notizia è che il giocatore è in uscita e questa è la seconda notizia la terza notizia da qui sviluppiamo tutto il resto perché ci sono altre novità interessanti quindi seguito il video in tutta la sua interezza è che il celsi negli ultimi giorni di mercato quando di fatto ormai cadono un po le certezze di tanti club e crollano un po le certezze di tanti campioni il celsi potrebbe gli ultimi giorni di mercato fare un tentativo per chiesa proponendo uno scambio con sterling che va alla juve e chiesa che va al celsi vi dico la mia senza fare troppi giri di parola e parole e senza in qualche modo allungare troppo il brodo per me sarebbe un'operazione intelligentissima intelligentissima perché partiamo dal primo presupposto il primo presupposto è la juventus si libererebbe di un problema che è quello legato a federico chiesa federico chiesa l'abbiamo detto più e più volte non rientra più nel progetto juve e attualmente non ci sono margini per poter riconoscere una ferita che ormai è complicata da ricucire difficile quasi impossibile mi avrebbe a dire beh dopo la sezione mckennie tutto è possibile però è molto difficile ti libereresti di chiesa del problema che questo momento c'è attorno alla figura ingombrante di federico chiesa e dell'ingaggio di chiesa che guadagna la bellezza di 5 milioni di euro dall'altro lato ti libererà il secondo motivo per cui io spingerei fortemente per la sezione genere è vendi chiesa mano del contratto eviti di lasciarlo in casa juve cercando in qualche modo di andare poi a creare una sezione pessima cioè chiesa che sta fuori rosa e che poi ti saranno la juve a un anno alla scadenza è un disastro cioè calcisticamente parlando a livello di calcio mercato è un disastro soprattutto eviti che possa andare in una squadra italiana perché si è parlato del napoli si è parlato della roma si è parlato di un inter che potrebbe perterlo a zero ecco io farei di tutto per evitare di vedere chiesa in taglia chiesa che sta un anno fuori che va un anno all'inter sarebbe un disastro per la juventus un disastro vederlo con la maglia dell'inter sarebbe brutto bruttissimo per i tifosi al juventus che avevano riposto in lui delle grande speranze dopo che se ronaldo si era preso la maglia numero 7 insomma è un disastro terzo aspetto lo vai a sostituire con un calciatore come sterling calciatore che secondo me in italia che che ne dicano molti in molti saranno lì a dire ma è rotto ma così ma figuriamoci se in italia questo arriva prende una valanga di soldi tutto quello che volete a me non interessa sterling in italia farebbe il bello e cattivo tempo con una condizione fisica quantomeno accettabile con una riduzione importante del suo incaggio sterling farebbe fare un salto di coetà pazzesco la juventus veramente pazzesco è un calciatore naturalizzato inglese diciamo di fatto il giamaicano ma naturalizzato in inglese che ha 29 anni che secondo me ha ancora tanto da dare al mondo del calcio e che in italia secondo me farebbe cose pazzesche può giocare sia a destra che a sinistra ama partire da sinistra ma secondo me potrebbe partire tranquillamente anche da destra nel modulo di Diego Motta altro tra cui non si può dire nulla un punto di vista dell'esperienza calcistica perché una che ha giocato nelle giovanili del liverpool poi nel liverpool poi nel city e poi nel celsi beh esperienze internazionali ne ha da vendere giocatori che secondo me in italia farebbe parte di quel gruppo dei giocatori che dalla premier all'italia trovano una secondaria giovinezza pensate a mkhitaryan che ha finito all'arsen va alla roma e poi all'inter un giocatore mostruoso pensate a lost chick un giocatore che sembrava finito al celsi va al milan rinato pensate a tomori uno scarto del celsi rinato pensate a giru neanche a dirlo pensate a pulisic che era i margini del celsi diventa un perno del milan insomma questo è farvi capire che in premier league vanno al doppio al tripolo al quadruplo della nostra velocità e uno come sterling forse va al decimo della velocità a cui vanno tutti gli altri giocatori per cui è uno che salta l'uomo è uno che ha rapidità è uno che ha quella qualità che all'evento servirebbe ed è un driblomane che all'evento serve davvero come il pane qualche giorno fa di marzo aveva parlato di un tentativo di scambio tra sterling e chiesa che era stato però era svanito in virtù del fatto che c'erano delle distanze evidenti tra le in qualche modo le come dire le valutazioni dei giocatori e gli ingaggi però il fatto che sterling non sia stato convocato e che chiesa continua a essere un giocatore fuori dai dai ai margini della juve può essere una soluzione una situazione molto interessante per per te comotta per giuntoli e vi dico una una roba molto semplice salimento si riesce a prendere uno come cubans e in più riesce a mettere all'interno della rosa uno come sterling per avventus torna essere squadra torna essere squadrone per come la vedo io cosa per la vostra fareste questo scambio direste sì alla persona sterling alla juventus parliamo qui sotto nei commenti ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.